Sindaco, la situazione a Castelnuovo di Cambri dove c'è stato questo movimento franoso che ha interessato diverse abitazioni, attualmente com'è? Allora, la stiamo logicamente monitorando, però dopo la pioggia della scorsa giornata abbiamo evacuato un parcheggio antistante a un condominio che al momento non è evacuato, però il condominio ma lo stiamo controllando, quindi significa che la frana è in movimento e pertanto bisogna monitorare giornalmente. C'è da dire che sono già partiti dei lavori, insomma urgenza che abbiamo fatto, riguardano logicamente la reggimentazione delle acque del torrente Siccagno e la realizzazione di gabbionature alla base del fronte franoso, ciò per evitare che se c'è la caduta di ulteriori detriti, questi detriti vanno a stacolare il regolare del flusso del fiume. Poi logicamente io voglio fare un appello al governatore D'Alfonso perché so che ha fatto un incontro insieme ad alcuni sindaci della provincia di Teramo, dalla Boschia a Roma, per parlare delle frane e Cambri non è stata considerata, quindi lo voglio fare davanti a questa televisione, di coinvolgere me, ma me nel senso come rappresentante della cittadinanza, per parlare appunto di questioni attinenti alle frane, perché la frana di Castelnuovo non è assolutamente da meno rispetto alle altre. E voglio precisare che abbiamo anche la frana di Paduli, in cui appunto bisogna anche l'Inter venire con urgenza perché c'è stato un ulteriore aggravamento. Voglio ricordare che il governatore circa due settimane fa ha preso un impegno ben preciso che il Genio Civile e regionale interveniva in maniera urgente, ma ad oggi questi lavori non sono partiti e lì la situazione sta degenerando. Lei il 20 marzo, come il sindaco Brucchi ha già annunciato, se non avrà risposte comunque positive anche in seno a questi emendamenti per il territorio Teramano, andrà a Roma, ci sarà una manifestazione? Sì, io ripeto, voglio precisare che non sono rimasto molto soddisfatto della risposta che c'è dato il governo di fronte a un movimento così importante di 47 sindaci e di 2.000 persone che sono andate a Roma. Voglio ricordare che neanche un ministro ci ha accolto, penso che sia una cosa molto grave, però a prescindere da questa cosa noi aspettiamo risposte concrete in base agli emendamenti che abbiamo presentato. Qualora questa cosa non dovesse accadere noi siamo pronti a mobilitarci. Anche qui voglio fare un appello al governatore D'Alfonso che questa volta venga con noi perché la scorsa volta c'è stata una sua mancanza e quindi abbiamo bisogno della sua presenza per far sentire la nostra voce.